4 piante grasse che sfidano il freddo e il caldo Prima di continuare se ti va, lascia un mi piace, per supportare il nostro lavoro su pianta succulenta. Trasformare il proprio spazio esterno in un'oasi verde resistente a tutte le stagioni è più semplice di quanto si possa pensare, soprattutto se si sceglie di puntare sulle piante grasse. Queste meraviglie della natura sono l'ideale per chi desidera un giardino o un balcone che non richieda cure eccessive, ma che al tempo stesso offra uno spettacolo visivo affascinante tutto l'anno, indipendentemente dalle temperature estreme. Le piante grasse sono note per la loro straordinaria capacità di resistere sia al calore che al freddo intenso. Ecco perché possono essere considerate alleate preziose per abbellire il tuo spazio esterno, garantendoti un angolo di natura rigoglioso e decorativo in ogni stagione. Vediamo insieme quattro specie particolarmente adatte a vivere all'aperto, capaci non solo di sopravvivere ma di fiorire in condizioni climatiche estreme. Agave americana L'agave americana, comunemente nota come agave americano o maguey, è una pianta succulenta originaria del Messico e del sud degli Stati Uniti. Questa specie è particolarmente apprezzata per la sua imponenza e le sue grandi foglie carnose, che possono raggiungere fino a due metri di lunghezza. Le foglie sono di un verde intenso, spesso bordate o punteggiate da striature bianche o gialle, e terminano con una spina a guzza. Oltre alla sua resistenza a temperature estreme, che variano dal caldo torrido al gelo, l'agave americana ha un ciclo di vita lungo, culminante in una spettacolare fioritura su un alto stelo, prima di morire e lasciare spazio a nuove piante. Questa caratteristica la rende un punto focale straordinario per qualsiasi giardino. Cactus tricoceres pasacana Il tricoceres pasacana è un cactus colonna che si trova nelle regioni andine dell'Argentina, della Bolivia e del nord del Cile. Questo gigante può crescere fino a 10 metri di altezza, presentando un fusto robusto e ramificato, ornato da areole da cui spuntano lunghe spine. Nonostante la sua imponente presenza, fiorisce solo di notte, producendo grandi fiori bianchi profumati che si chiudono all'alba. La sua capacità di resistere a temperature fino a meno 10 gradi centigradi lo rende particolarmente adatto per esterni in zone con inverni freddi, offrendo un aspetto drammatico e preistorico al paesaggio. Echeveria lilacina L'Echeveria lilacina, nota anche come Echeveria lilacinese, è una pianta grassa dalla forma elegante, con rosette dense di foglie carnose che possono raggiungere i 15 centimetri di diametro. Le sue foglie hanno una distintiva colorazione grigio-lilla che si intensifica con l'esposizione solare diretta, rendendola particolarmente attraente durante tutto l'anno. In primavera, l'Echeveria lilacina produce delicati fiori rosa o arancioni, che emergono su steli sottili e arcuati, aggiungendo un tocco di colore al tuo giardino o balcone. La sua tolleranza alla siccità e al freddo la rende una scelta ideale per creazioni rocciose o come pianta da vasodecorativa. Sedum spatulifolium Il Sedum spatulifolium, noto anche come Sedum cucchiaio o stonecrop, è una pianta succulenta perenne che forma tappeti di rosette dense. Le sue piccole foglie sono di un verde brillante, talvolta con sfumature rosse o porpora, soprattutto sotto stress idrico o a basse temperature. Durante i mesi estivi, si elevano al di sopra delle foglie i fiori stellati di colore giallo brillante, attirando impollinatori e aggiungendo un vivace contrasto di colore. Resistente e versatile, il Sedum spatulifolium è perfetto per bordure, giardini rocciosi o come copertura del suolo, offrendo un'attrattiva visiva duratura e una notevole resistenza alle condizioni climatiche avverse. Coltivando queste piante grasse nel tuo spazio esterno, puoi goderti un giardino vibrante e di facile manutenzione, che resiste alle sfide delle temperature estreme, arricchendo l'ambiente con forme, texture e colori affascinanti. Coltivare queste piante grasse significa abbracciare la bellezza resiliente della natura, creando uno spazio che non solo sopravvive, ma prospera in ogni condizione climatica. Valutando attentamente le specifiche esigenze di luce e acqua di queste piante, potrai goderti un angolo verde vibrante e a bassa manutenzione, che arricchisce il tuo spazio esterno con forme, colori e texture affascinanti per tutto l'anno. Scegliendo queste varietà, il tuo giardino o balcone diventerà un vero e proprio angolo di paradiso, testimoniando la straordinaria capacità delle piante grasse di adattarsi e fiorire in ogni stagione. Se questo video ti è piaciuto segui il nostro canale Pianta Succulenta. Lascia un mi piace a questo video e se hai qualche domanda o qualche pensiero da condividere sentiti libera di commentare.